Colpiti 8.000 km2 di vegetazione dall'epidemia di Xilella dal 2013 ad oggi, con un danno stimabile di quasi 3 miliardi di euro, secondo un'analisi della Coldiretti. L'urgenza è salvare da nuovi contagi la piana degli ulivi monumentali, che ha già perso un terzo degli ulivi di inestimabile valore. Sono 176 le nuove iscrizioni di alberi monumentali della Puglia, con cui si arricchisce l'albo verde nazionale, esemplari che raggiungono anche i 40 metri di altezza e quasi 900 metri di circonferenza, di cui solo 12 sono in centri urbani, 5 a Bari e 7 a Foggia. In occasione del decreto del MIPAF, con cui è stato approvato il quinto aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, è emerso questo. Nella piana degli ulivi monumentali è altissima la concentrazione degli ulivi millenari, con ben 250.000 esemplari di prestigio straordinario che potrebbero freggiarsi del prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO. Si stima che alcuni potrebbero addirittura avere un'età fino a 3.000 anni, con circonferenze che superano i 10 metri, una ricchezza dal punto di vista storico e turistico sino ad oggi mantenuta in vita soprattutto grazie all'impegno di generazioni di agricoltori, anche a prezzo di sacrifici considerevoli.